Come te lo spiego, è tipo Elden Ring, soltanto che è isometrico, ti ricorderà Diablo, ma è un Souls-like. Chiaro. Ciao a tutti e bentornati, ma soprattutto ciao a te, che magari è la prima volta che capiti sul canale e non ci conosci ancora, mi raccomando, vai qua sotto perché c'è il pulsante per iscriverti e attivare la campanella, così ricevi le notifiche per quando carichiamo ogni singolo video e non te lo perdi. Poi in descrizione trovi i link importantissimi a tutti i nostri social dove condividiamo le cose più disparate. Sto già registrando? E infine c'è anche il link per acquistare giochi scontatissimi, perché c'è il nostro link referral che ti permette di accedere a sconti unici e una piccola parte arriva a noi, quindi facendo acquisti sostieni anche il canale. E ora che hai scoperto tutte le cose più importanti che c'erano da sapere per far parte della grande famiglia di Top Games Italia, bisogna incominciare a parlare di qualcosa di molto interessante, ovvero di un gioco isometrico che è come Elden Ring, ma isometrico. Benvenuto nel Magico Mondo di Achilles Legend Untold, un titolo che a me ha fatto subito storcere il naso e mi sono dovuto ricredere. È divertente e mi dimentico ogni tanto che la prima cosa che deve fare un videogioco è divertire. Questo ha saputo divertirmi, ha saputo tenermi incollato per il tempo giusto per finirlo, e soprattutto per capire effettivamente le meccaniche, e in tutto questo ha aggiunto un po' di mitologia, non sono mancate le battute sulla famosissima città e le loro abitanti. Che sì, detta nel 2023, questa battuta è terrificante, e immagino tutte le attiviste che si stanno ribaltando nella tomba. Comunque, purtroppo, la parte debole di questo titolo è proprio l'inizio. Il tutorial è qualcosa di completamente inutile, perché effettivamente non è che ci voglia proprio un tutorial per capire le meccaniche del gioco, e soprattutto ti fanno provare la bellezza di utilizzare una kill incredibile, con i fantadanni, la vita infinita e tutto quello che vuoi, per poi, ovviamente, come accade in tutte queste situazioni, fartela pagare. Mettendoti davanti a un combattimento che devi perdere perché è scriptato, e togliendoti tutti i poteri. Che botta incredibile di originalità. Ma l'apice di tutto ciò si raggiunge quando arriviamo a combattere contro Ettore, il primo vero combattimento impegnativo del tutorial. No. Infatti, vengo avvisato, prima di iniziare il combattimento, che Ettore avrà un attacco imbloccabile, quindi io devo schivare. E diciamo che nessuno ti dice che quell'attacco può essere interrotto facendo un attacco pesante in corsa, e da lì in poi il combattimento incomincia ad essere sempliciotto e monotono e veloce, oltretutto. Cioè, Ettore non diventa assolutamente più un problema. E possiamo anche scegliere se lasciarlo vivere o ucciderlo, che è un po' cruenta come cosa, però ci sta in un gioco simile. Ci sta parlando di mitologia, poiché molte delle cose che sono scritte nella mitologia greca sono atrocità. Parliamo un momento di feeling col gioco. Cioè, quanto mi dà fastidio che un titolo di questo genere sia isometrico. A dire la verità non mi ha dato per niente fastidio. Anzi, mi è piaciuto parecchio. Mi dà una visione un po' diversa, mi fa giocare a qualcosa di un po' diverso dal solito, perché siamo onesti. I Souls-like, tolto quelli in 2D in stile Hollow Knight, sono tutti più o meno fatti nella stessa maniera. Il fatto che degli sviluppatori abbiano deciso di portare il mondo Souls-like all'interno di un isometrico, anche se c'è molto rimpasto, abbiamo delle componenti che sono chiaramente ispirate a Diablo, perché ci sono le cantine, che sono dei mini dungeon dove andare a raccogliere ovviamente oggettistica varia, dove troviamo dei banditi da combattere o altre cose. Ci sono un sacco di meccaniche che vengono prese un po' di qua, un po' di là. Però nell'insieme funzionano e hanno messo in piedi un titolo comunque piacevole da giocare, soprattutto se non ci aspettiamo il titolo dell'anno. Se non stiamo cercando un titolo di quelli incredibili, come questo sarà l'ultimo gioco che giocherai nella tua vita, ecco, Achilles Legend Untold è un ottimo gioco da giocare. Passiamo un attimo alle abilità e i punti statistiche. Non ci sono punti statistiche, ovvero abbiamo un albero abilità omnicomprensivo. Ci sono delle voci sbloccabili che vanno ad aumentare le nostre statistiche, altre invece che ci vanno a sbloccare le skill che possiamo utilizzare. E spesso le skill sono dipendenti da altre skill, sono combo oppure sono azioni univoche che possiamo compiere a seconda di alcune situazioni. Per fare un esempio pratico e il più semplice esegui un contrattacco soltanto dopo aver effettuato una parata perfetta. L'azione avviene in automatico nell'esatto momento in cui noi riusciamo a fare la parata perfetta. È un po' complicato da prenderci la mano, però una volta che si è capito il meccanismo è un gioco che fila sinceramente liscio. I falò, come avete appena visto, pulsano. Pulsano ed è una cosa magnifica. È un suono stupendo, è fatto veramente bene. Probabilmente è la cosa meglio fatta dell'intero gioco e ci hanno dedicato un casino di tempo e si vede. Perché cambia la grafica quando ci siamo, quando passiamo poi al sali di livello, abbiamo queste costellazioni nel cielo che sono molto belle da vedere, suggestive. anche perché si muovono in maniera strana. Cioè è un emisfero e si capisce. E diciamo che la resa di questa cosa è veramente fatta bene. Di per sé poi non hanno una funzione così particolare. Fanno esattamente quello che fanno tutti i falò nei Souls-like, ovvero ti permettono di salire di livello, selezionando le skill in questo caso, di riposare e utilizzare il viaggio rapido. Come vedi da me del passato, di poco tempo fa, mentre giocavo a questo gioco, farmare non è assolutamente un problema, perché da i falò a dove ci sono i nemici c'è pochissima distanza, essendo un isometrico, e ecco, ci sono proprio delle aree che sembrano fatte apposta, secondo me, e possiamo sfruttarle quanto vogliamo. Questo è un lato positivo, ma anche un lato negativo, perché effettivamente esagerare subito all'inizio ti porta ad affrontare un livello di sfida molto più accomodante. Nonostante, ad inizio gioco, noi possiamo scegliere la difficoltà a cui giocare tra due, che è così così e supereroe, praticamente. Una delle feature più divertenti del gioco ti permette di scagliare i nemici per aria, e quando capirai come farlo, non farai altro per tutto il tempo, perché è divertentissimo vederli schizzare da tutte le parti, soprattutto quando sei all'interno di una cantina, perché non possono andare oltre l'altezza del soffitto, e quindi incominciano a cascare in maniera molto bizzarra. Non guardate troppo al tutorial. Lo ripeto, ma una volta che l'avrete terminato, vi renderete conto di quanto è sbagliato, quanto spiega le cose male, e di quanto il gioco sia estremamente diverso da quello che avete provato all'inizio. Perché abbiamo un mondo aperto, abbiamo un mondo da esplorare, un mondo decisamente grosso. Si parla di più o meno 10-11 ore per finire il gioco, se poi vogliamo andare a fare tutti gli achievement, tutte le cose che possiamo fare, secondo me a 30 ore ci arriviamo senza grossi problemi. È un gioco che quasi sicuramente rigiocheremo, perché è divertente. Semplicemente per questo motivo, guadagna tantissimi punti sulla scala dei videogiochi da giocare, perché ha un ottimo intramezzo nell'attesa tra un Souls-like importante e l'altro, o se ad esempio un Lords of the Fallen non ti ha soddisfatto, perché in quel caso sai di aver buttato via un sacco di soldi e avere un titolo che in verità non ti è piaciuto. E questo qua è assolutamente soggettivo. con Achille nel senso costa 17 euro, a meno che non vogliate la versione super figa dove ti danno anche un Achille da stamparti da solo, da casa tua, con la tua stampante 3D, e non ne ho ancora capito il senso. Oppure 17 euro sono un investimento più che valido nel titolo di cui stiamo parlando, perché effettivamente le ore di gioco ce l'ha. Il fatto che sia un gioco piacevole e divertente c'è, anche se devo essere sincero su una cosa, io ho fatto molta fatica a vedere gli scheletri nella prima fase di gioco, perché si confondono con lo sfondo. Di conseguenza prendevo botte e poi capivo da dove arrivavano le botte. Ma tralasciando questo particolare, che è abbastanza soggettivo anche in questo caso, diciamo che nel complesso tutto si incastra in maniera più o meno giusta. Ci sono cose che stridono, ci sono cose che magari non piacciono, ma di base non stiamo parlando intanto di un titolo AAA, non stiamo parlando di un titolo che mira ad essere il miglior gioco mai costruito, ma in verità stiamo guardando semplicemente un gioco che mira ad intrattenere il giocatore, facendolo peraltro in una maniera abbastanza buona, perché devo dire che la voglia di giocare c'è ancora, la voglia di rigiocare c'è ancora, e soprattutto c'è la voglia di andare a scoprire se mi sono perso qualcosa per strada, perché magari ci sono dei boss segreti, cose non obbligatorie che io mi sono completamente perso. E ora ti devo rivelare un piccolo segreto, se questa piccola recensione, se così la possiamo chiamare ma è più un'opinione sul titolo, ti è piaciuta, ti è venuta voglia di provare questo gioco, qua sotto in descrizione ti lascio il link per acquistarlo a soli 10 euro, che è decisamente un prezzo ottimo per portarsi a casa, una storia comunque accattivante, un gioco divertente, un Soulslike un po' diverso dal solito, e comunque un ottimo passatempo. Che di questi tempi non fa mai male, perché sinceramente sto facendo veramente tanta fatica a trovare dei titoli che mi prendano, dei titoli che mi interessino, e soprattutto dei titoli che mi portino anche un pochino fuori strada, rispetto alla mia area di comfort, perché ovviamente provare qualcosa di diverso fa sempre piacere, bisogna però trovare anche le cose giuste. Quindi se ti piace l'universo dei Soulslike alternativi, e magari anche quello degli isometrici, diciamo che Achille Legend Untold fa veramente per te, e soprattutto fa per me, che è la cosa che mi interessa di più di tutte. Se sei arrivato fino a questo punto, mi raccomando, qua sotto nei commenti lascia tre emoticon che descrivano Achille Legend Untold, soprattutto il tuo pensiero verso questo titolo. Ma devono essere tre emoticon che potresti usare anche alla presenza di un Hellenlord. Vedi i nomi che stanno scorrendo qua sopra? Sono i nostri abbonati. Se hai piacere di supportare il canale e vedere anche i nostri video prima che escano, fai come loro, abbonati.